Congestione nasale, se cronica causa disturbi respiratori e del sonno. Raffreddore, influenza e covid, ma anche allergie. Sono tante le malattie, soprattutto in inverno, che portano con sé la difficoltà o addirittura l'impossibilità di respirare con il naso. La congestione nasale è fastidiosa quando è passeggera. Ma quando si presenta nella forma cronica può creare veri problemi. La causa che la determina è l'infiammazione delle vene poste nella mucosa nasale. Chiamate seni venosi, l'infiammazione provoca infatti la dilatazione dei seni venosi, che vanno così a ostruire la cavità delimitata dal setto e i turbinati, impedendo il normale flusso dell'aria. Respirare male espone a un rischio maggiore di contrarre le malattie, che colpiscono il primo tratto delle vie respiratorie e soprattutto incide sulla qualità del sonno, che diventa frammentato e non più ristoratore.